Le antiche civiltà hanno lasciato molti artefatti che non abbiamo ancora scoperto. Di tanto in tanto gli archeologi si imbattono in reperti sorprendenti. Tuttavia, a volte sono le persone comuni a fare queste scoperte. Nella puntata di oggi vi presenteremo le sorprendenti scoperte fatte da queste persone. Ti invito a vederlo. Numero 1. La scoperta in un ciliegio in Svizzera. Nel 2015 in un frutteto di ciliegi in Svizzera sono state scoperte 4166 monete. Di bronzo e argento sepolte circa 1700 anni fa. Le monete pesavano 15 chilogrammi. Un contadino locale li ha trovati quando ha visto qualcosa di luccicante in un cumulo di terra. Pochi mesi prima era stato scoperto un insediamento romano in un villaggio vicino. Quindi il contadino pensò che le monete potessero essere collegate ad esso e contattò il servizio archeologico. Il servizio archeologico locale ha riconosciuto questo tesoro come il più grande ritrovamento di monete nella storia della Svizzera. Alcune monete risalgono all'anno 274 dcc, durante il regno dell'imperatore Aureliano, ed altri a partire dall'anno 294 dcc, sotto il regno dell'imperatore Massimiano. L'archeologo svizzero Georg Mater, che ha lavorato agli scavi, ha affermato che ciò che è stato trovato nei primi tre giorni ha superato le loro più rose aspettative. Numero 2 Una rara moneta d'oro in Galilea Nel marzo 2016, l'oro Ramon ha visto qualcosa di luminoso durante un'escursione con gli amici in Galilea. Era una moneta con l'immagine dell'imperatore Augusto, che ha circa duemila anni. La moneta fu coniata nell'anno 107 dcc, dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme da parte dei Romani ad opera dell'imperatore Traiano, nell'ambito di una serie che commemorava i suoi predecessori. Augusto governò dal 27 anno corrente corso fino al 14 dcc, e dopo la sua morte fu riconosciuto come divinità. Infatti, la moneta lo raffigura come il Divino Augusto. Questa moneta è estremamente rara, ne esiste solo uno simile in tutto il mondo. Ramon, che vive in un kibbutz nel nord di Israele, ha consegnato la moneta all'autorità israeliana per le antichità. Nessuno sa come sia finito nella Galilea orientale. A suo tempo, era troppo prezioso per essere utilizzato nelle transazioni quotidiane, come se oggi si pagasse con una banconota da 100 dollari per una bibita. Si ritiene che potesse far parte di una collezione più ampia, ma nella zona non sono state rinvenute altre monete. Numero 3. Monete vichinghe a Belfast. Nel maggio 2016, il cacciatore di tesori Brian Morton ha scoperto due monete d'argento vichinghe estremamente rare vicino al castello di Newcastle in Irlanda. Questo è stato il primo ritrovamento di questo genere nell'Irlanda del nord, a parte alcune monete trovate altrove sull'isola. Morton stava cercando con il metal detector senza cercare nulla di particolare quando trovò le monete. Queste monete circolavano nell'isola di Man e forse in Scozia nell'undicesimo secolo. Contengono il 93% di argento. Si pensa che potrebbero essere arrivati nella zona a causa dell'invasione vichinga del vicino monastero di Maghera, o forse in seguito al commercio o al collegamento strategico dell'isola di Man con l'Ulster sudorientale. Un ex curatore di un museo dell'Ulster ipotizza che qualcuno di passaggio possa aver lasciato cadere le monete, il che sembra più probabile della teoria della sepoltura intenzionale. Prima dell'invasione vichinga, l'argento era la valuta principale in Irlanda. Le monete sono state inviate al British Museum per una valutazione indipendente, e il denaro ricavato dall'asta sarà diviso tramorto nel proprietario del terreno in cui sono state ritrovate. Numero 4. Un enorme tesoro in Spagna. Nell'aprile 2016 alcuni operai edili della città andalusa di Tomares, in provincia di Siviglia, hanno scoperto 19 anfore contenenti monete romane di bronzo. Un'anfora è un tipo di brocca romana. Gli operai hanno trovato il tesoro mentre scavavano trincee per installare i cavi elettrici in un parco. Le monete pesavano più di 590 kg e risalgono al III secolo di Cici. La dimensione del ritrovamento è spettacolare. Anna Navarro, direttrice del Museo archeologico di Siviglia, ha affermato che ogni anfora pesava così tanto che una sola persona non poteva spostarla. Dieci brocche furono rotte mentre scavavano le trincee. L'ipotesi preliminare è che le monete verrebbero utilizzate per pagare le tasse all'impero romano. Tutte le monete erano in ottime condizioni, essendo state coniate di recente prima di essere sepolte e non sono mai state in circolazione. Sono state prese precauzioni per verificare la presenza di altri tesori nascosti nella zona prima di riprendere i lavori. Numero 5. Il tesoro di Saddle Ridge. Nel 2014 in California, una coppia che portava a spasso il cane nella loro proprietà notò una lattina arrugginita che spuntava da una collina. L'hanno dissotterrata con un bastone e l'hanno portata a casa. Quando tornarono sulla collina, trovarono altre lattine. Ma ciò che era interessante non era la storia delle lattine, ma ciò che contenevano. All'interno c'erano monete d'oro risalenti al periodo 1847-1894, per un valore totale di 11 milioni di dollari. Una singola moneta era valutata a 15 mila dollari e un'altra a 1 milione di dollari a causa della sua rarità. La collezione conteneva monete d'oro da 5 dollari, 10 dollari e 20 dollari, che furono bandite in California fino al 1870, rendendo le monete precedenti a quel momento estremamente preziose. La maggior parte delle monete erano in perfette condizioni, i che apparentemente furono sepolte subito dopo essere state coniate alla zecca. Il numismatico incaricato della vendita ha commentato che la maggior parte di essi sono stati coniati alla zecca di San Francisco. Sebbene non sia chiaro chi abbia nascosto le monete o come siano arrivate a quella proprietà, esistono diverse teorie. Alcuni suggeriscono che le monete appartenessero a famosi criminali come Black Bart o Jesse James, ma nessuna di queste teorie è stata confermata. Numero 6. Monete cosmiche Durante la ristrutturazione di una casa in Egitto, fu ritrovata una serie di monete raffiguranti una testa aliena e un'astronave. Una delle monete mostra una testa calva con occhi enormi, che sembra un alieno. Sul retro di uno di essi c'è un'iscrizione in latino che dice «Qui quando fa bel tempo». Ciò ha portato alcune persone a credere che le monete siano la prova che gli alieni hanno visitato la Terra migliaia. Di anni fa, tuttavia sorgono domande del tipo «Se gli alieni avessero creato queste monete, perché avrebbero parlato agli antichi egizi in latino?». Per altri, queste monete misteriose sono semplicemente un tentativo di screditare la storia di presunti contatti alieni. Le lettere che circondano la testa aliena sembrano scritte in greco. Inoltre, un gettone di conteggio francese del XVII secolo, anch'esso di forma sferica, ricorda un disco volante, il che ha portato alcuni a paragonarlo alla ruota biblica di Ezechiele, ritenendo che questa storia biblica descriva un incontro con gli UFO. Sebbene molti siano scettici, altre teorie suggeriscono che alcune di queste monete potrebbero essere esempi di «Obos del Nickel», un fenomeno in cui gli artisti modificavano monete comuni con disegni insoliti. A metà del XVIII secolo, le persone iniziarono a modificare le immagini sulle monete fatte di metalli teneri. I dilettanti negli Stati Uniti hanno registrato, ad esempio, una donna seduta sul water. La moneta più popolare per queste modifiche era la moneta di rame e buffalo. Le persone, soprattutto i vagabondi con molto tempo a disposizione mentre viaggiavano in treno, spesso usavano queste monete per realizzare stampe creative. Numero 7. Lorda di Oxnay Nel novembre 1992, un martello scomparso portò a una scoperta che avrebbe sbalordito gli storici e i cacciatori di tesori nella città di Oxnay, nel Suffolk, in Inghilterra. Un uomo di nome Derek Lowe stava usando il suo metal detector per trovare il martello smarrito di un amico. Tuttavia, invece del martello, lo sbortò alla luce qualcosa di molto più prezioso, il tesoro di Oxnay. Non erano solo una manciata di monete o un paio di manufatti arrugginiti. Il tesoro di Oxnay è un'enorme collezione di oltre 15.000 monete d'oro e d'argento romane, gioielli e stoviglie in argento. È uno dei tesori romani più grandi e preziosi mai scoperti in Gran Bretagna. La quantità e la qualità degli oggetti trovati nel tesoro sono sorprendenti. Si ritiene che il tesoro, risalente alla fine del IV all'inizio del V secolo XI, sia stato sepolto per custodia, forse durante l'instabilità politica e il cambiamento sociale dovuto al declino dell'impero romano. Il tesoro comprende braccialetti, anelli, cucchiai e persino pepiere dal design intricato, a dimostrazione dell'alto livello di artigianato durante l'epoca romana. La scoperta del tesoro di Oxnay non solo ha arricchito la nostra comprensione della Britannia romana, ma ha anche cambiato le leggi sulla caccia al tesoro in Inghilterra. La loro scoperta portò all'approvazione del Treasury Act del 1996, che permise a tali scoperte di essere segnalate e catalogate in modo più sistematico. Il tesoro, ora ospitato al British Museum, funge da abbagliante finestra sul passato, rivelando la ricchezza, l'arte e la vita quotidiana dei romani in Gran Bretagna. È un sorprendente ricordo dei tesori che possono essere nascosti, in attesa di essere riscoperti, anche nei luoghi più ordinari, come il fango di un campo del Suffolk. Numero 8. Il tesoro dello Staffordshire. Trovare un tesoro nascosto nel proprio giardino è un sogno, ma per un fortunato metal detector dello Staffordshire. In Inghilterra, questo sogno è diventato realtà nel 2009, ma non si trattava di un ritrovamento qualsiasi. Si trattava dello Staffordshire 3 Azure, la più grande collezione di tesori anglosassoni oggetti metallo d'oro e d'argento mai trovati. Sto parlando di più di 3500 oggetti, tra cui attrezzature da guerra e manufatti religiosi decorati, che lo rendono letteralmente una miniera d'oro per storici e cacciatori di tesori. Ora parliamo di fortuna. Trovare una o due monete è una cosa. Ma portare alla luce un tesoro di questa portata è come vincere il jackpot di tutti i tempi. Lo Staffordshire Ord offre una visione senza precedenti dell'arte e dell'artigianato anglosassone, con i suoi disegni intricati e la lavorazione dettagliata. Questa scoperta non è solo significativa, ma rappresenta anche una svolta storica. Ma ecco la domanda. Quando si trova un tesoro di immenso valore storico, chi può reclamarlo? Il cercatore d'oro, il proprietario terriero, i musei, è come trovare sul marciapiede un biglietto vincente della lotteria. Non sorprende che il tesoro dello Staffordshire abbia suscitato notevoli dibattiti e negoziazioni sulla proprietà e sul valore. Alla fine, il tesoro fu valutato ben 3.285 milioni di sterline, divisi tra il ritrovatore e il proprietario. E cosa succede dopo? I musei di tutto il paese si sono affrettati a raccogliere fondi per acquisire questo tesoro, assicurandosi che potesse essere studiato ed esposto al pubblico. Il tesoro ora risiede in diversi musei, tra cui il Birmingham Museum and Art Gallery e il Ceramics Museum and Art Gallery di Stock-on-Trent. Numero 9 Nella piccola città brasiliana di Pindoba, una straordinaria scoperta ha lasciato a bocca aperta la comunità locale e il mondo. Uno smeraldo del peso di 363 chili e alto 1,30 metri è stato rinvenuto nelle Profondità della miniera di Carnaiba, situata nello stato di Bahia, nota per i suoi ricchi giacimenti di gemme. Gli esperti ritengono che questa enorme gemma contenga circa 180.000 carati di cristalli di smeraldo e si stima che valga l'incredibile cifra di 33 milioni di dollari. Anche se la miniera è nota per i suoi giacimenti di gemme, la scoperta di uno smeraldo così grande è ancora considerata estremamente rara per le sue dimensioni e qualità, a differenza dei tipici smeraldi utilizzati in gioielleria. Questo esemplare delle dimensioni di una roccia è valutato più come oggetto da collezione rispetto alle solite gemme, tagliate a pezzi per essere utilizzate in gioielleria. Gli esperti suggeriscono che sarebbe un pezzo straordinario da esporre in un museo o nella hall di una proprietà di lusso. Il proprietario che ha scoperto questo smeraldo ha scelto di nascondere la propria identità e rimanere anonimo, temendo per la sicurezza propria e della sua famiglia. In effetti, mantendero segreta anche la posizione della gemma, spostandola in luoghi sicuri sotto stretta sorveglianza. Ebbene, se anch'io scoprissi una gemma del valore di più di una dozzina di beni immobili di alto valore, mi assicurerei anche che non venga rubata o scoperta da nessun altro. Numero 10 Nel 1952, un ragazzo scozzese che scavava per piantare patate come punizione in champon nella testa di una statua di arenaria, rossa di quasi 4.000 anni a Modaus nel Fife. Questa scoperta è stata solo la prima di una serie di ritrovamenti durati tre decenni, che hanno portato alla luce un totale di 18 manufatti egizi, tra cui statuette di bronzo e placche di ceramica. I manufatti, risalenti alla metà della XII dinastia fino al periodo tolemaico, intorno al 1922 anno corrente, includono oggetti degni di nota come una statuina in bronzo del dio Apis e una statuina in maiolica della Dea, Iside che allatta Horus. Questa scoperta sconcertò gli archeologi. Solo di recente gli archeologi hanno finalmente scoperto il segreto. Oggi gli esperti ritengono che Alexander Henry Rind, noto come Lord Balgonie, abbia probabilmente portato questi manufatti in Scozia. Balgonie si recò in Egitto nel XIX secolo, quando era normale per i viaggiatori facoltosi acquistare oggetti d'antiquariato. Al loro ritorno, la collezione fu immagazzinata e alla fine dimenticata, forse trasferita in un edificio che fu successivamente demolito, seppellendo con essa i reperti. Con ciò si concluse finalmente il mistero decennale delle statue egiziane. Oggi i manufatti sono ospitati nel Museo Nazionale della Scozia, dove continuano ad essere apprezzati dai visitatori e dalla gente del posto. Numero 11. Mentre scavava un pozzo, un contadino locale di nome Mr. Siang si imbatte in qualcosa di inaspettato. Invece dell'acqua, trovò una caverna sotterranea. Dopo ulteriori scavi, scoprì una grotta carsica naturale ornata di stalattiti e stalagmiti che si erano formate nel corso di migliaia di anni. Questa caverna è stata scoperta nel suo cortile, a circa 20 metri sottoterra. Ciò che è stato sorprendente in questa scoperta non è stata solo la caverna stessa, ma le caratteristiche uniche al suo interno, che sembravano quasi magiche. Alcuni paragonavano queste formazioni ai fiori di loto, mentre altri le descrivevano come figure di elfi. Tuttavia, questo tipo di ritrovamento non è del tutto inaudito nella regione. Gli abitanti della contea di Ia erano noti per scavare i propri pozzi e talvolta trovavano grotte calcaree, naturali nel farlo. Secondo i documenti ufficiali, nella zona sono state scoperte caverne simili, alcune lunghe fino a 25 metri. Sebbene non siano comuni nella Cina centrale, dove risiede Lord Xiang, queste grotte carsiche rimangono un fenomeno affascinante. Si formano dalla dissoluzione di rocce solubili come calcare, dolomite e gesso, creando paesaggi sotterranei di impressionante bellezza. Numero 12. La mappa stellare più antica del mondo. Immagina di imbatterti in un oggetto così antico e unico da cambiare la nostra comprensione dell'astronomia primitiva. Questo è esattamente quello che è successo nel 1999. 1999, in un campo fangosso vicino alla città di Nebra, in Germania. Lì, i cacciatori di tesori trovarono un disco di bronzo di circa 30 cm di diametro, ornato con simboli di foglie d'oro. Questa scoperta divenne nota come il disco celeste di Nebra e risale al 1600 anno corrente circa. Questo disco non è solo un capolavoro dell'età del bronzo, ma funziona anche come carta astronomica. I simboli dorati rappresentano il sole, la luna, le stelle e persino un fenomeno celeste. Forse un eclissi solare o la luna piena. La sua scoperta è stata come trovare un pezzo mancante nel puzzle della storia dell'astronomia. Ma qui la cosa diventa ancora più interessante. Il disco è stato inizialmente venduto sul mercato nero, circolando illegalmente prima che le autorità se ne accorgessero, portando al suo recupero e al successivo studio da parte di archeologi legittimi. Ricerche recenti rivelano che forse dovremmo dare più credito ai nostri antenati. Sembra che la complessa comprensione astronomica non fosse esclusiva delle culture successive come quella greca o babilonese. Dopo tutto, questo disco è la prova che le popolazioni europee dell'età del bronzo avevano una comprensione sofisticata. Degli eventi celesti molto prima di quanto molti avessero ipotizzato. Numero 13. Balena d'ambra. Sebbene il vomito sia comune in molte occasioni, quando si tratta di balene la storia è diversa. Il vomito di balena può essere estremamente prezioso. Nel settembre 2021, un pescatore ha scoperto un pacchetto di ambra grigia, nota anche come vomito di balena, su una spiaggia nel sud della Tallandia. Questa ambra grigia è una sostanza rara e preziosa utilizzata nei profumi di lusso. Il pacco trovato dal pescatore pesava 30 chili e valeva più di un milione di dollari, cosa che gli cambiò la vita. L'ambra grigia si forma nel sistema digestivo delle balene come risposta ai becchi affilati dei calamari di cui si nutrono. Può galleggiare nell'oceano per anni prima di raggiungere le spiagge, dove assume un profumo unico grazie all'esposizione al sole e all'acqua salata, rendendolo molto desiderato dai venditori di profumi. Sebbene il suo valore esatto sia difficile da determinare, l'ambra grigia è considerata una delle cose più costose al mondo, con prezzi che vanno da poche centinaia a migliaia di dollari al grammo.